Buongiorno a tutti, oggi faccio un po' di pariaccio, non perché voglio fare pariaccio, ma cioè volevo mettere in mostra cravatta Laika degli anni Ottanta, bellissima comunque. Bene, allora, io sono qua per fare un ultimo appello, perché chi ha ricevuto il voucher cioè questo tipo di email della Laika Club, Laika Italia, Laika Club, e con 10% di sconto, voucher di 10% di sconto. Questo finisce tra qualche giorno, fine giugno finisce, quindi sabato è l'ultimo giorno, e quindi, guardate, 10% di sconto è un sconto straordinario e che non si ripeterà. Una cosa molto interessante, perché, allora, Laika Q costa 4195 euro, vuol dire 419 euro di sconto. La Laika M10, Laika SL, Laika CL, o gli obiettivi, cioè 10% di sconto, credetemi, è che non fa mai nessuno. E quindi è un'occasione straordinaria e unica cosa è che, ad esempio, quel materiale che non ne abbiamo in questo momento a disposizione, come disponibilità, perché disponibilità è scarseggia parecchio. Quindi quello che non abbiamo noi non possiamo accettare come prenotazione. Abbiamo parlato con la Laika Camera Italia diverse volte, mi hanno confermato che se non ne hai, non puoi farlo. Questo mi dispiace. Tuttavia, ne abbiamo tantissimi, non solo noi, anche i nostri colleghi, della Laika Store, della Laika Dealer, Laika Boutique. E quindi, andate, se avete minimamente idea di comprare materiale nuovo, andate a prendere perché approfittate questa occasione. Quindi, funziona così. Chi ha ricevuto la mail, cioè inviate questa mail tramite mail, ancora, inoltrate mail, e poi noi fatturiamo con 10% di sconto. Ok? Quindi, 10% di sconto immediato alla cassa. Quindi, questo è molto importante. Quindi, approfittate questa occasione. Grazie dell'attenzione.